Sorride il Fasano che passa il turno di Coppa Italia Serie D eliminando il team Altamura, finisce 2-1 Alvito Curlo con le reti per i padroni di casa tutte nel primo tempo, Battista al secondo minuto e Ido Iaga al trentasettesimo. Inutile la rete al diciannovesimo della ripresa realizzata dallo Iodice, debutto ufficiale per le due compagini e per i due neotecnici, Luca Tiozzo per il Fasano schierato con il 4-2-3-1 e Domenico Giacomarro per l'Altamura in campo con il 3-4-1-2. Vito Curlo subito in festa, dopo due minuti, ingenuità di Petta che manda verso la porta Ido Iaga, il francese serve l'assist perfetto per Battista e 1-0, ma il team Altamura reagisce al settimo Karmoud dalla destra, trova spazio per il cross, lo Iodice si avventa sulla sfera, conclusione che sfiora il palo con deviazione. Ancora Murgiani in avanti al diciannovesimo, sempre con lo Iodice, pallone preda di Lazare, il Fasano torna pericoloso al ventinovesimo con il tentativo di Ido Iaga ad impegnare Spina. Replica dopo un minuto l'Altamura, Lazare è abile a salvare il vantaggio sul tiro di Rogoluso. Al trentunesimo gli ospiti reclamano anche un calcio di rigore sul contatto Manfredi di Innocenzo, tutto regolare per l'arbitro. Il Fasano trova il raddoppio al trentasettesimo con gli stessi protagonisti a parti invertite. Contropiede magistrale concluso da Ido Iaga su assist di Battista e 2-0 il team Altamura prova a riaprirla prima dell'intervallo ma al quarantunesimo Lattanzio si vede salvare sulla linea. Un colpo di testa, botta sicura, ottimo intervento di Manfredi. La ripresa vede un team Altamura più arrebbante in avvio, al terzo lo Iodice prova il palonetto ma Lazare recupera la posizione salvando la porta. Risposta a Fasanese, affidata al quinto a Battista, botta dalla distanza e grande risposta di Spina. Al dodicesimo il Fasano vicino al terzo gol, schema su punizione, Barellini si ritrova davanti a Spina, tocco sotto che colpisce il palo. Al diciannovesimo i Murgiani la riaprono, dipinto dalla destra, mette un traversone in aria su cui arriva lo Iodice. 2-1, team Altamura che ora ci crede ma il Fasano non si scompone. Al ventesimo infatti Ido Iaga si presenta tutto solo davanti a Spina ma l'azione non si concretizza. Al trentatresimo ci prova anche Calabria, Mattera salva la porta. Al quarantatresimo la grande occasione per il pari ma un Lazare in stato di Grazia dice di no al colpo di testa di Bertolo. Finisce qui, un Fasano solido e convincente passa e va al secondo turno, team Altamura che potrà riscattarsi in vista dello start di campionato domenica prossima.